Domenica 17 marzo vi aspettiamo numerosi a Tossignano per la nascita dell'Associazione dei Giovani Tossignanesi. Alle 15 presso il centro visita dei Gessi di Tossignano si terrà l'Assemblea dei Soci e il tesseramento 2013 che darà la possibilità ai soci di partecipare alle future attività. Al termine parti con musica live, balli, kebab e la classica polenta tossignanese che vi accompagneranno per tutta la serata. Per info cercateci alla pagina facebook Giovani Tossignanesi. Tossignano c'è!